Erano anni che non si vedeva la colonna alta di fumo nero della Pira della Vecia dirigersi verso il Foro Boario. Chissà quale sarà stato il messaggio che la nonina più famosa del mondo ha voluto lanciare questa volta da Prato della Valle. Ammirata da migliaia di padovani, bambini in prima fila tra le braccia dei genitori e i più grandi schierati sopra la gru per godersi al meglio lo spettacolo. In poche realtà sapevano a che cosa stavano assistendo. Dipende da dove si vanno ad alte, c'è prosperità, altrimenti se cadono non c'è prosperità. Come le vede? Alte. Bene, bene, bene. Bello, bel fuoco. Le famiglie vanno verso ovest e che anno sarà? Non lo so. A tutti però quelle fiamme calde dal cuore della piazza hanno stimolato un augurio per questo nuovo anno appena iniziato. Un anno spero di ricrescita e anche di valori. Speriamo migliore di questo che è passato. Speriamo migliore di quello precedente. È stato un disastro. Speriamo bello, speriamo bello perché il fondo forse l'abbiamo anche toccato. 15 metri di pira andati in fumo in una ventina di minuti, anche grazie al lavoro solerte e dei vigili del fuoco che hanno provveduto a rinfrescare la veccia per tutto il tempo. È un anno splendido, sicuramente! Deve essere un anno splendido! Dobbiamo essere ottimisti! Ciao!